Quest'oggi è la presentazione del consorzio Lazio Outdoor, tanti buoni propositi e speriamo anche che ci saranno buone iniziative in futuro. Assolutamente sì, l'obiettivo come abbiamo detto già al convegno è quello di creare una rete, creare un sistema e dare agli operatori del settore delle reali o concrete opportunità di sviluppo sia in ambito realmente legato all'incoming, quindi a quello che è il beneficio monetario economico visto nella situazione di difficoltà ma anche di dare delle opportunità agli operatori stessi per offrire una ricettività migliore, una qualità migliore in maniera tale da poter avere poi la possibilità che il turista ritorni anche che non solamente prenda se ne vada e poi cambi zona, quindi cerchiamo di creare un sistema dove poi il turista lo facciamo girare nel territorio, lo facciamo muovere all'interno del territorio cercando anche lì un po' di evitare che Roma cannibalizzi il turista che viene nel Lazio e quindi nella nostra regione.